Oltre 20 episodi delittuosi sono stati compiuti da un gruppo dei giovani malviventi, i quali hanno colpito dal 14 novembre al 6 dicembre, giorno in cui le loro attività sono state interrotte dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Primavalle. Furti, aggressioni, danneggiamenti, rapine, lesioni, violenze private, reati predatori in genere hanno contraddistinto la quasi quotidianità dell'operato di questi ragazzini. Un vero e proprio fenomeno delinquenziale per la loro prepotenza e l'efferato vandalismo di questa baby gang. Fra di loro è emerso in particolar modo il ruolo dei due leader, un romano di 15 anni, già noto alle forze dell'ordine, e un 14enne nato a Santo Domingo. Posizione di rilievo nella comitiva era ricoperta anche da altri due giovani, uno di 16 anni nato a Roma, anche egli pregiudicato, e un altro 14enne romano. Con una paziente e minuziosa attività di ricostruzione dei fatti, la ricerca delle prove attraverso la visione dei filmati e immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, nonché l'ascolto di varie testimonianze, gli investigatori sono riusciti ad attribuire con certezza al gruppo molti episodi delittuosi. Tra questi, la rottura dei vetri di diversi autobus dell'ATAC presi a sassate, gli atti vandalici compiuti all'interno di una scuola di Primavalle, ripetute rapine aggravate ai danni dell'esercente di un negozio di alimentari, atti di bullismo nei confronti di un coetaneo colpevole, a loro dire, di aver spifferato la loro responsabilità nell'accesso alla scuola, e ancora, il furto di un estintore presso il benzinaio di un centro commerciale più volte da loro rapinato, e infine il furto di un cellulare ai danni di una minorenne nelle vicinanze di una scuola. Molti degli episodi delittuosi sono perfettamente ripresi dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, analizzate dagli investigatori, e nelle quali si riconoscono chiaramente gli autori, che si vedono agire con freddezza e insolenza, nonostante la giovane età. Quattro componenti della banda sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. In particolare, nei confronti di due di essi, sono state richieste idonee misure cautelari. Gli investigatori stanno ancora lavorando per individuare precise responsabilità anche a carico di altri minori, che hanno avuto un ruolo, seppure marginale, in alcuni degli episodi.